oh ragazzi avete sentito di tutte le novità di foodspring e black week allora durante la black week abbiamo un sacco di sconti 20 per cento su di tutto e incluso proprio tutti i sconti che troverete proprio sul loro sito perché ci sono i daily deals che vuol dire l'offerta del giorno ci sono i sconti e però l'unico problema è che ci sono un sacco di limitazione perché hanno fatto sorti di scatola limitata che è andato sold out e neanche 48 ore ok così se volete avere una natale ricco di opportunità ok perché un regalo di salute è sempre ben apprezzato secondo me da da chi lo riceve ok noi possiamo andare su foodspring e prendere tutto scontato fino a domenica per questa settimana di black week e poi l'opportunità sono tantissime perché i prodotti di foodspring variano da snack magari una bella snack vegano un energy bar che è fatto con frutta secca anche per i miei amici che sono vegani o crudisti abbiamo il porridge che è super buono è super pronto eco shape shake per chi si vuole tenere in forma con gli eccessi di natale e poi c'è questa la protein pizza vogliamo parlare della protein pizza che io avevo fatto già un altro blog con il pesto con la bufola vogliamo parlarne però con la base che altamente proteico è pieno di inulino che c'è tantissimo fibra per la nostra microbiota o vogliamo parlare di un all day cleanse ok proprio per aiutarci tenere diciamo le viscere un po' liberi dopo tutti gli eccessi di natale o possiamo pensare di fare una serie limitata a provare la serie limitata perché abbiamo sia marzapane che cannella magari potremmo fare un pancake con cannella e con la mele ok proprio per avere un gustoso primo colazione dolce post cena ok come come cena però sempre dentro i ranghi del buon gusto e della buona regolazione della nutrizione perché foodspring è proprio questo e tanti prodotti tanti prodotti che ci danno tante soluzioni per rimanere in riga ok perché il palato vuole il suo ok ma anche il portafoglio vuole il suo perché è black week questa settimana è dedicata a tanti sconti su foodspring.it 20% su tutto e incluso i prodotti che sono già scontati ok anche i daily deals non dimenticate un bel po di coconut oil che è un passo per tutti per i capelli per i denti e per le viscere perché mct che vuol dire medium chain triglicerity sono eccellente per la salute nel nostro microbioma e pensate di fare un bellissimo regalo di natale a qualcuno che ami incluso te stesso perché io faccio il regale a me stessa magari prendete un po di sparkling aminos che sono perfette dopo l'allenamento come vero energy drink proprio per i vostri muscoli e tutto questo per passare un natale in forma con food spring buona black week a tutti ciao da gil